Molti cittadini oggi rinunciano alle visite proprio perché hanno una crisi anche di tipo economico e il sindaco Manfredo attraverso questa importante iniziativa abbiamo costruito questo villaggio della salute a piazza del plebiscito e darà l'opportunità a tutti quei cittadini che fuoriescono anche da quella che è la filiera di prevenzione e di cura di tutte le istituzioni sanitari della nostra città. Un villaggio della salute in piazza del plebiscito sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 10 alle 18 si terrà salute per tutti le giornate napoletane dedicate alla salute e alla prevenzione al benessere. Lo scorso anno hanno partecipato 15.000 cittadini e sono state fornite più di 50.000 prescrizioni sia di tipo diagnostico che di tipo divulgativo e preventivo. Quest'anno parteciperanno in 75, sono presenti chiaramente oltre alle ASL con i patrocini ovviamente della regione dell'Università Federico II e anche la Van Vitelli, sono presenti tutti gli ordini professionali diciamo del settore della sanità. Presenteremo nuovi mezzi ecologici perché molte patologie derivano anche dall'inquinamento sia acustico che di tipo ambientale. I cittadini potranno sottoporsi gratuitamente a visite mediche e screening diagnostici e ricevere informazioni sull'importanza della prevenzione. È un segnale di grande civiltà in un momento in cui va sostenuto sempre di più un servizio sanitario universale con un accesso libero da parte di tutti. Partecipa anche tu. L'appuntamento è in piazza del plebiscito sabato 23 e domenica 24 settembre.